l'avvelenamento da mercurio può dare specifiche manifestazioni all'interno del cavorale il mercurio è molto utilizzato in medicina e ha provocato molti avvelenamenti cronici le fonti principali di mercurio sono appunto le amalgame dentali il pesce e anche i cappelli dove appunto in alcuni cappelli dove è presente può dare la cosiddetta sindrome di alice nel paese delle meraviglie perché appunto da danni neurologici gravi alterazioni del comportamento è uno stato confusionale l'intossicazione cronica da mercurio da problematiche neurologiche molto importanti può provocare la gotta un'aumentata captazione tiroidea di iodio radioattivo tachicardia polso labile ma anche gengiviti ma anche la presenza di mercurio nelle urine può provocare tremore sbalzi d'umore depressione irritabilità timidezza eccessiva perdita di memoria confusione e impazienza all'interno del cavorale provocherà un orletto blu con anche alveoliti e caduta dei denti grazie a tutti